Alla fine Nuccio Di Paola ha scelto la sua Caltanissetta. Il candidato alla presidenza della Sicilia dei 5 Stelle alle ultime elezioni regionali ha optato per il seggio della provincia nissena. Ho ascoltato tutto il Movimento 5 Stelle e alla fine ho deciso che la scelta più giusta sia quella di optare per il seggio di Caltanissetta, dice Di Paola che è stato eletto anche nei collegi di Palermo e Catania. Ringrazio tutti i candidati, gli attivisti e i simpatizzanti del Movimento per l'apporto dato. La scelta di Di Paola definisce dubbi sugli ultimi due candidati eletti all'Assemblea regionale per i pentastellati. Nel collegio di Palermo infatti viene eletta Roberta Schillaci, deputata già componente della Commissione Antimafia e alla sua seconda legislatura. A Catania invece scatta il seggio per Martina Ardizzone. Resta fuori il candidato nisseno Filippo Ciancimino.